Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Gilberto Floriani, 76 anni, ex direttore e amministratore di fatto del sistema bibliotecario vibonese, accusato di peculato e posto ai domiciliari insieme all'ex direttore amministrativo dello stesso ente, Valentina Amadeo, 42 anni. I due arrestati hanno scelto diverse strategie difensive, perché mentre Floriani ha scelto di vogliare meglio il materiale che gli viene contestato, la Amadeo si è difesa rispondendo al GIP per circa un'ora. Ricordiamo inoltre che risultano indagati a piede libero, sempre con l'accusa di peculato, anche i figli di Floriani, Emilio, 43 anni, Giuseppe, 47, Gabriele, 35 anni. Secondo l'ipotesi accusatoria, Gilberto Floriani e Valentina Amadeo si sarebbero appropriati di denaro pubblico utilizzandolo per il soddisfacimento di interessi privati. In particolare, l'ex direttore del sistema bibliotecario vibonese avrebbe avuto, a titolo di indennità di direzione e rimborsi spese per il conferimento di incarichi, una somma pari a circa 87.000 euro, mentre i figli Emilio, Giuseppe e Gabriele sarebbero andati rispettivamente 64.000, 70.000 e 8.000 euro. Da quanto si è appreso, Valentina Amadeo, il cui interrogatorio dinanzi al GIP è durato oltre un'ora, ha risposto a tutte le domande nel tentativo di chiarire la sua posizione e dimostrare l'estraneità alle accuse mosse dal PM della Procura di Vipo Valencia. La difesa ha prodotto anche una memoria difensiva e attende ora le decisioni del giudice sulle esigenze o l'eventuale revoca della misura cautelare. Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Vipo Valencia, Gilberto Floriani, in condizione di conflitto di interesse e la Amadeo, avendo per ragioni del proprio servizio la disponibilità di denaro, eludendo le disposizioni normative in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, se ne appropriavano utilizzandolo per il soddisfacimento di interessi privati, ovvero destinandolo ai figli di Floriani e a se stesso. La Procura ha inoltre ritenuto illegittime le nomine di Floriani e Amadeo a nuove posizioni create nel 2017 per mantenere Gilberto Floriani al controllo del sistema bibliotecario vibonese, che fin dalla Costituzione nel 1998 lo ha visto in veste di direttore. Un incarico che ha ricoperto fino a giugno 2017, quando sono state create dal nulla due nuove figure organizzative, con l'Assemblea dei Sindaci che nominava direttore amministrativo Valentina Amadeo e direttore tecnico-scientifico lo stesso Gilberto Floriani.